Tornano nelle acque del Golfo di Napoli dal 1 al 5 luglio le regate di vele d'epoca, evento che giunge quest'anno alla dodicesima edizione e vedrà in gara yacht in legno o metallo varati entro l'anno 1950. I dettagli del programma sono stati illustrati questa mattina al Circolo Savoia che ospiterà la base logistica della gara e dove si terrà la cerimonia di premiazione finale in programma domenica. Avremo una ventina di barche quest'anno, due della Marina Militare, sono tutte barche d'epoca costruite ante 1950, curate perfettamente dai loro armatori che le leccano quasi, si può dire, quotidianamente, subito dopo la regata, le rimettono a posto, le sciacquano e le tengono come delle vere e proprie amanti. Organizzata insieme allo sport velico Marina Militare e all'associazione italiana vele d'epoca, la rassegna parte ufficialmente giovedì 2 luglio con la cerimonia dell'Alza Bandiera. Venerdì alle 11 si terrà la regata costiera e sabato 4 ancora gare sulle boe. È prevista per domenica la tradizionale parata degli scafi nelle acque antistanti lungomare. Un'iniziativa straordinaria, uno scenario di incomparabile bellezza, insomma Napoli si candida ed offre il meglio di sé anche attraverso questa manifestazione sportiva e di un'eleganza straordinaria. Le vere d'epoca rappresentano oggi per Napoli anche un altro momento di sviluppo e di aggregazione. L'edizione 2015 della manifestazione sarà accompagnata da serate in musica, un convegno sul tema della nautica ed una gara di cucina tra skipper. Oltre alla vela che naturalmente farà da protagonista questa manifestazione sono previsti eventi oltre che ludico mondani anche culturali perché ci sarà in concomitanza con la regata una conferenza sul cibo e segnatamente sul cibo della dieta mediterranea e della dieta mediterranea ancorata alla cucina di bordo.